Siamo nel cimitero tradizionale, qui sulla sinistra, e c'è materiale di risulta, erbaccia che non finisce mai. Chiediamo a una signora che, come tante altre, ha una cappella qua, com'è la situazione? Allora, questo è l'area sinistra del cimitero, dove ognuno di noi ha preso un pezzo di terreno. Di 32 metri quadri ha potuto fare una cappella di 25 metri quadri. Ognuno è improprio, con le proprie economicità. In effetti non riusciamo a raggiungere i nostri cari, anche se ci abbiamo messo più di un anno per portarceli tra la pandemia e poi le transumazioni che non venivano. Perché non lo riuscite a raggiungere? Allora, io vi faccio vedere adesso tutti i viali che portano alle cappelle nuove. Questa è la prima schiera di cappelle. Qui ci sta un ammasso di detriti, che non sono i nostri. Perché se voi potete vedere, questi sono tutti calcinacci vecchi. Ci sono anche pezzi di marmi, di esumazioni già fatte. Qui a sinistra ci sta un contenitore di alba. Allora, la mia domanda è, perché ammassarli qui e non metterli direttamente nel contenitore? L'erbaccia non è stata mai tagliata, mai. Anche in inverno abbiamo avuto erba alta. In effetti io alla festa della mamma sono venuta, lotto, però non sono riuscita a passare. Adesso vi faccio vedere i vialetti, in che condizioni sono. Questo è il primo, si dovrebbe accedere di qua e girare a sinistra. Però ci sono dei rovi, ci sono anche delle more volendo. E ci stanno anche topi e serpenti. E io di qua non ci posso passare. Poi ce n'è un altro un po' più avanti. Questo è il secondo vialetto. Praticamente ci sono tutto questo materiale di risulta. Di fronte c'è una cosa in cemento armato che non ci fa passare. Sempre erba alta a destra e a sinistra. E quindi neanche di qua ci sta l'accesso. Sempre con materiale di risulta che non sono i nostri delle cappelle nuove. Insomma una situazione veramente drammatica. Qui non c'è corrente, non c'è acqua. Insomma tutto sporco, tutto un degrado.